Ma noi abbiamo delle bellissime immagini di gente che mangia per terra con dei vassoietti che non faremmo mangiare neanche i nostri cani e a questo punto mi sto chiedendo dove stiano andando a finire i soldi di 33,50 euro che la prefettura, un organo del nostro governo, dello Stato italiano ha sottoscritto una convenzione con questa cooperativa dietro la garanzia della prestazione di servizi che non vengono dati perché noi cittadini stiamo pagando, quindi noi ci indigniamo per questo